Professor Marasini, oggi l'associazione Piccoli Cuori dona un nuovo macchinario fondamentale per la diagnosi fin da quando il bambino è in utero. Sì, questo è un ecocardiografo di ultima generazione della Toshiba, ultima generazione sia come software che come hardware. Consente l'acquisizione di immagini di alta qualità in una differente gamma di pazienti, da possibilità di diagnosi in utero fino ad arrivare al giovane adulto, consente l'elaborazione di immagini con acquisizione di immagini in 3D, color, color d'opera, insomma tutte le possibili impieghi di un ecocardiografo di ultima generazione. Dottor Denevi, l'associazione Piccoli Cuori, sempre accanto al Gazzini dal 98, oggi siamo qui a inaugurare un nuovo ecocardiografo. L'associazione Piccoli Cuori è formata basicamente da 5 famiglie, 5 famiglie che con tanta fatica però sono riuscite a portarsi dietro un sacco di contribuenti. Bomboniere, il 5x1000 stesso, questa macchina è arrivata grazie all'ultimo 5x1000 e tante altre donazioni spontanee che sono state fatte volontariamente da delle persone. Non ultimo è una signora che ci ha regalato 10.000 euro, non è male questa cosa, che ringrazio pubblicamente, che ringrazio pubblicamente. Io sono contento di questa cosa perché poche persone si tirano dietro, un sacco di persone e fanno questo.